Ho percorso tante volte una ferrata che si sviluppa all'interno di un canalone roccioso. Si tratta della ferrata Viali con possibilità di proseguire sulla più breve ferrata Ferrari. Ma dove mi trovo? Sono sulle piccole Dolomiti in provincia di Vicenza. Due ferrate considerate mediamente difficili e non adatte che alle prime armi. Per chi ha più esperienza invece possono risultare divertenti, ci si troverà ad affrontare tratti a strapiombo, scale adrenaliniche, tratti verticali e traversi, prestando attenzione alla roccia perché è un po' instabile. La ferrata Viali è varia per passaggi più impegnativi e altri atletici. E al termine potrai scegliere se proseguire sulla ferrata Ferrari, breve e su placca, oppure fare ritorno al punto di partenza. Oppure salire sulla cima del Monte Gramolò 1814 metri su sentiero 211 e godersi un po' di relax e panorama che male non fa e con un po' di fortuna ammirare qualche simpatico camoscio. Trovi altri info utili nella descrizione. Salva i reel!